buonasera benvenuti amici di cabri channel ci vediamo dopo un po di tempo che non sono stato in diretta per una comunicazione anzitutto sto trasmettendo da cagliari in sardegna perché mi trovo qui perché come avevo annunziato finalmente anche se in ritardo e non nelle modalità che erano state previste andrò a lavorare in un villaggio turistico precisamente un camping village adesso vi faccio vedere cagliari ecco qua appunto c'è il porto di cagliari gli autobus potete vedere ecco in realtà mi faccio sentire dopo un po di tempo solo per una comunicazione che mi sembra comunque giusto fare essendo che comunque penso che sarò impegnato un bel po di ore a tempo pieno in questo camping village che si chiama orri in sardegna per chi volesse venire a trovarmi dico non trasmetterò ecco per due mesi perché a settembre poi inizio metà settembre massimo tornerò nella mia terra la sicilia e allora da lì ricomincerò a fare i video quindi poi magari sporadicamente se riesco farò quantosina comunque non lo garantisco quindi voglio augurare una buona estate a tutti venite in vacanza in vacanza ok in vacanza al camping village orri o dove volete voi però comunque andiamo andate in vacanza io lavorerò zaino in spalle varigio qui e vado a prendermi il bus che mi porterà appunto da cagliari a orri quindi saluto tutti e ci rivediamo a settembre grazie a chi mi ha seguito finora ci vediamo tra due mesi ciao ciao